Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è questo? C'è chi è? Chi è? All right, no, no, it's not. Ma is there some type of goal I can shoot for to get to 70-30? Like a goal or a number I can shoot for? Yeah, you just got to do, you know, a certain amount of jobs consistently for three months in a row and not missing a month. All right. And then you'll get the 70-30 but until then you got to get 50-50. All I have to say is that seems very fair to me. That seems very fair and reasonable to me. Yes, I think you're just doing a good job helping me out. And like fixing up this nice place that I'm living. All right? Wow- Yeah, yeah. Yeah, I'm so sorry. I think it's all right, so... Okay. That's not bad. Yeah. I'm sorry, I don't know. I'm sorry. I don't know, if I don't know. ma che le mani sa 2 kairzza per lakuk noさえ変なところに隙間にさ 青い扉が刺さってさ ちゃんは耐久削れてさ ラクトテープなくてさ s そんなことが起こる要素同意3がいじって いるしか思えないくらいだけどさあ さんにやられてるやられてるかもしれない いやほんとキャラのシールターモッター E' Sì Questa 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 Non perché. Trippi Per la volta Per loначere che sono già sbagliato la wiadomo di motivazione che sono che sono la per pensare ma anche è un ... no 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 Noi, 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 noi. Ahahahahaha Sì, sì, sì. Sì, allora un luci croc. Quindi sono arrivi un luci croc. Magari l'u33 croc. Sono molto amici. Non è un luci croc. Non è guarda che riguardo. Ma cheDA, quando si fai seguito? Ehっと Zagare Scusi d'음� completion Zagare Insuranti Halta Innate Sì! Su, la stessa che ti può households? Ma è qui qui? Ma è qui? Ma è qui, del tempo? Su, la stessa, lei è in uccanico? Eh Si, la stessa è? Sassata, ma sassata, lo soco fuori si è in là! Sassata, grazie a tutti i suoi? Sassata, grazie a tutti i suoi? Sassata, grazie a tutti i suoi! Sassata... Si, la stessa è iniziata, si vittà di usano? Dio nai? Nanna omaetàtchi? Uma i sa co sa... ...いつか捉えるから... Nanna omaetàtchi? B da! Nanna... ... sono uti捉えているから na! ... ... ... Nara! Un personaggio! Un personaggio! D.A. Stato! Oh! 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 Stegoro! Oh! I'm not... And that is all What? I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Thank you guys! I'm hungry. Che cosa crei? Lo però quei povera così! E che cosa che una gente ha detto? Noi. Un'unico. La griglia, che si troviasi. Un'unico. Altosuc. Tutor6 Atticare. grazie alla collaborazione ecco che fa e la editata Sì, sì, sì. Sì Sì, però devo farlo tanto? Quebra il tempo d'autoriamente più velo. Poi trope la chiama. Poi maggi che fece. Poi mi piace. Poi mi piace. chmai che variano ah Dario! Dario!! Dario! Si。 No, non è un gioco. いやいや... Sì 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 DOMANDA 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 Oggi 1 e si fai? 1 ma non è? 1 ma non è? 1 ma non è? Oggi è vero. Kill la! E? F*** you! E? Uso? E? Oiii! 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 Oiii!